sky questo controller ce l'ho da davvero troppo tempo e chi me l'ha mandato per fare un test mi sta odiando quindi perdonami allora questo video si non è cominciato con no no ma devo dire devo dire che qua il numero di video dove ci iniziamo scusando ci sta iniziando a crescere che non è manco la prima scusa diciamo di questo video ma c'è anche la solita del benq qui di fianco a me full hd 144 hertz fighissimo che trovato in descrizione trovato in descrizione abbiamo praticamente non abbiamo mai avuto modo perché ci è arrivato tipo poco prima che cominciassi lockdown il non abbiamo mai trovato maniera di contestualizzarlo testarlo e quant'altro tuttavia lo utilizziamo sempre per video come questi dove dobbiamo utilizzarlo come monitor il suo servizio lo fa la grande perdonaci anche ben più anche ben più vabbè andiamo avanti comunque allora questo non è un controller e basta perché comunque se lo colleghiamo a pc via usb funge anche da controller doppio controller il che è una cosa molto simpatica ma la cosa interessante è che contiene un pandora box cosa è un pandora box cosa da dove nasce perché quant'altro allora il pandora box in principio era praticamente ed è un sistema che tramite un computer diciamo suo inizialmente collegabile con jamma mi sa che molti adesso sono collegabili con presa jamma che è quella dei cabinati cos'è una presa jamma appunto no lo sto dicendo allora la jamma è praticamente uno standard che si utilizzava all'interno dei cabinati ossia in un unico schedone potrei teoricamente andare a prendere anche di là perché ce n'abbiamo una staccata perché non usiamo la magia del montaggio? dai ho scelto la maniera più scomoda è stata la prima cosa che mi sono trovato tra le mani a questo il computer di un il taiko no tatsu jinsei quello suo originale è questo questa è una presa jamma allora il jamma diciamo che è uno standard che si utilizza praticamente si utilizzava nei giochi da sala essenzialmente su quest'unico connettore ci trovi connessi tutti i controlli tutti i comandi tutti i comandi di servizio il monitor le alimentazioni tutto passa da qui vabbè a parte poi eccezioni per esempio già il taiko c'è un'eccezione perché se tu connetti però magari il monitor ce l'è qui l'audio è separato perché passa per uno stereo ma è un contesto diverso immaginate di non avere questi controlli un cabinato magari degli anni 90 inizio 2000 anche prima forse 80 aveva un connettore jamma dove era connesso tutto allora che cosa perché allora arriviamo al pandora box ovviamente ogni cabinato era bindato diciamo così alla sua scheda o comunque un cartuccione nel caso di tipo del neo geo e quant'altro direttamente alla scheda esempio voi avete un cabinato e c'è questo tipo di connessione scheda di metal slug pam metti vuoi cambiare gioco pam scheda di puzzle bubble funzionava così tanto lo standard era quello poi sono arrivati un bel giorno i pandora box praticamente al sicché connettersi a una cartuccia dedicata ti connetti a un computer appunto il pandora box che contiene diversi giochi e qui veniamo al nostro controller un attimo ve lo tolgo di mezzo ok liberateci del computer del taiko arriviamo qui allora alcuni sistemi tipo questo sky che abbiamo qui davanti utilizzano il pandora box in genere sono numerati perché appunto esiste il pandora box il 2 3 4 5 6 numerati questo contiene il 9 cambia l'interfaccia la versione e a volte anche l'hardware spesso anche l'hardware non alcune volte cosa fa praticamente è un contenitore di giochi principalmente da sala solo che il pandora box 9 è uno dei più come posso dire tra i pandora box è la più cinesata nel senso che già è una cinesata di sé è la cinesata della cinesata perché praticamente permette di moddarlo in maniere anche più ampie rispetto al normale perché infatti nella sua parte posteriore possiamo notare i vari attacchi tra cui due prese usb infatti una possiamo collegarla a computer come ho detto prima se volessimo usarla come controller se no possiamo collegarci una chiavetta usb per aggiungere giochi mi sa che non si possono aggiungere direttamente sulla cartuccia ma praticamente c'è un comando c'è la guida per farlo se cercate per attaccare la chiavetta mettere le rom fare una combinazione o comunque interpellare i setting del pandora box che tra poco andremo a vedere e quindi caricare ulteriori rom anche se diciamo tutte quelle più utilizzate quelle più popolari le si trovano già all'interno più o meno regolari nel senso che si tanto abandonware e tutto quanto però esistono anche se non sbaglio Street Fighter non lo so ma c'è qualche Tekken che sono versioni massicciamente come posso dire Mauri strip down sono tipo i bei warrets esatto per i più vecchi per dire poi magari ve lo faccio vedere tra poco ma essenzialmente immaginate non solo nel caso di Tekken di avere solo la modalità versus tra due giocatori cioè magari tolte le musiche tolte qualcosa quindi diciamo per alleggerirlo un pochino anche perché il pandora box 9 non so se sei in grado di leggere al massimo un gioco 3D del tipo di ma la domanda che ti voglio fare da ignorante che differenza c'è rispetto a un retropie un meme in generale come emulazione guarda tendenzialmente quasi niente con la differenza che dovrebbe essere un po' più un po' più fedele questo perché appunto sfrutta degli standard quindi è comunque un altro tipo di emulatore è un universo a parte è un computer a parte che praticamente fa solamente questo ok al contrario di un retropie per esempio si che è configurabile in ogni modo questo ti arriva così bello pronto e ce l'hai disponibile poi lo vuoi maltrattare e gli vuoi fare altre cose va benissimo comunque inizierei già ad accenderlo comunque vi premetto dato che ve lo starete sicuramente chiedendo è salito un po' di prezzo ultimamente ma questo sky si trova a poco meno di 300 euro nel link che trovate in descrizione c'è anche una versione alternativa che vi metto e quindi andiamo a vederlo basta collegare la corrente un hdmi ci ricorderà tipo molte volte quando abbiamo nei giochi che è a 720p quindi se la mettete sul monitor full hd non risolvete niente si accende e in pochi secondi si si è acceso dovremmo vedere velocissimo dai si no ad accendersi è molto veloce in realtà come potete vedere abbiamo la libreria di giochi per pagina qualche migliaio ecco quindi solo 166 pagine è vero 166 pagine di giochi per 2 4 6 8 10 1600 1600 e si quindi più o meno più o meno lì siamo diciamo che non sono pochi ecco di cui no a questo punto non proprio sul tecnic che faccio vedere come funziona tra l'altro state sentendo l'audio viene sia dal monitor sia da qui perché abbiamo anche il controllo del volume si ci stai sopra la rotellina no perché veramente è incassatissimo ecco ora è solo il televisore mi sa che sono al contrario si praticamente da un lato aumenta il televisore e diminuisce qui dall'altro lato aumenta qui e diminuisce il televisore comunque in ogni caso cioè abbiamo vabbè se i tasti di utilizzo sembra come si chiama lì cap head ma è cap head è jojo's venture insomma dicevo abbiamo i sei tasti di controllo una stick più due tasti uno per i crediti l'altro per lo start ma si può giocare anche in due fin il gioco di chi era ok vado direttamente ah no ma ho ridato che abbiamo fatto l'action figure l'altro giorno king of fighter avviamolo direttamente la cosa che mi dà fastidio è che vengono strecciati i giochi però sicuramente ci sarà l'opzione per metterli a 4 terzi quindi credito te lo mette già di default appena entro dov'è la ma iscrivono scusami ma se facciamo una cosa anche se non compaio granché in monitor vuoi vedere che nel 98 non ci sta figuraccia facciamo una partita in due non c'è ok ah no c'è io devo se prendo start ma non mi eh no perché io là stavo giocando quindi a te era già start l'ho premuto io allora no allora mi hai scelto no aspetta tu hai già selezionato il personaggio ah ok 2p ah eccola ah devi scegliere di twitter aspetta aspetta che no aspetta ok ma sei andato di power meshing si vuole vedere una cosa no vedevo come erano configurati i tasti beh io sto totalmente andando a casa a casa ok hm c'è molta vita ah vabbè comunque in ogni caso ok gloriosamente perso no sto vedendo come sono regolati i tasti di base praticamente sono almeno per questo infatti questi due possiamo vedere che non fanno niente sono questi quattro che appunto sto vedendo i pugni no i pugni sono uno e due calcio calcio eh sì ma questa è proprio la figura è proprio uguale eh sì no è che la posa sua è quella eh sì va bene va bene la cosa è che ti lancio il ventaglio e qui ma l'hai fatto vedere prima ok una volta che abbiamo visto king of fighters start e select insieme cioè gettone e start insieme possiamo uscire insomma qui abbiamo la selezione abbiamo un tanto di cona di fianco su che genere di gioco abbiamo a che fare per esempio appunto sparatutto a scorrimento gioco sportivo puzzle avventura insomma abbiamo pure i loghi nel caso ci dobbiamo aiutare o comunque ad attivare dei filtri che si possono eventualmente configurare a proposito di configurazioni c'è un bottoncino piccolo 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 per accedere con musica molto eh tranquilla alzi alzi ai settings praticamente qui c'è il controllo dei gettoni perché praticamente eh in Italia non so quanto è legale però si trova a tutte le parti nell'epoca che sa le giochi che sono rimaste è molto facile trovare i Pandora Box diciamo che questa è una schermata di controllo infatti dove controlli i gettoni vabbè oltre al test vabbè dei comandi che è molto ignorante diciamo questa musica è fantastica eh la musica vera che è carina player 1 ok allora vediamo tutte le varie opzioni che ci sono possiamo customizzare i tasti che non sono quelli di default perché questi sono quelli default current ah no sono uguali li avevo cambiati io mi sa per fare la prova eh sì infatti come dicevo prima sono 1, 2, 3, 4 ma appunto lì dipende dalla disposizione perché ci si trova anche magari su determinati giochi ad avere A, B, C, D per dire per quanto riguarda i picchiadure ma questi sono dettagli cioè si possono cambiare tranquillamente le mappature dei comandi a nostro piacere poi vabbè configurazione del sistema voglio vedere se c'è la credit setting ah vabbè quanti gettoni ci vogliono per ogni credito vabbè il bind per uscire dai giochi quindi start il gettone il menu pausa vabbè è disattivato perché andrebbe bindato esce in automatico vabbè dopo 3 minuti che non giochi vabbè game mode praticamente con i soldi quality optimization secondo me quello là è il il 4 terzi lo stretching proviamo su a disattivarlo vediamo cosa succede back ah no abd ok vabbè book keep questi sono i gettoni utilizzati vabbè vabbè non mi ricordo qual è la password di base save setting e reboot vabbè è fatto il resetting nel caso partiamo devi fare save setting esatto cazzate esatto yes vediamo se cambia no consiglio che in hdmi probabilmente c'è un po' meno controllo su quello o forse dipende anche dal monitor questa è in modalità sala praticamente perché vedi c'era tipo la demo che scorre i giochi ah si appena metti il credito diventa utilizzabile effettivamente il logo in alto è super tamarro no questo è proprio a tutti i pandora il 9 è ancora più è perciò dicevo tremendo scusa prendiamo un ah aspetta aerofighter dovrebbe avere pure l'f15 italiano non ricordo male voglio dar sicuro che mi sbaglio o vediamo se ho fatto dell'ottimizzazione se dipende da quello per l'autofire sarà ah vedi questo mi sa che sembra mi sa che è partito come doveva andare eh si è in 4 terzi vabbè questo vabbè ho preso uno per sbaglio in scorrimento verticale però vedi che non streccia mi sembra sì no devo provarne uno che di regole è a 4 terzi vabbè che poi ce ne sono tantissimi i giochi 4 terzi c'è quello che ho fatto apposta vedi partiamo già con l'inserimento di credito no effettivamente non è cambiato un cacchio peccato perché non secondo me in qualche modo c'è io non capisco se taglia o espande perché sembra un po' strecciato ma non neanche troppo ci metterei la mano sul fuoco il cerchio mi sembra giusto non lo so sinceramente che che cosa poi l'artificio utilizzi o su cosa si basi comunque in ogni caso funziona utilizzabile non sembra strecciato infatti pure il cerchio che vedo qui mi sembra normale le biglie sono corrette distruggo al volo albie qua come volevasti dimostrare comunque tornando un attimino all'hardware dato che questa è una cosa molto importante i tasti allora i tasti diciamo non sono tutta questa grandissima qualità si sa che tra i prediletti diciamo per i picchiaduro ci sono i sanwa a corsa molto breve questi hanno una corsa comunque breve ma sono diciamo di qualità un pochino più bassa nel senso che hanno un click molto irregolare nel senso che in fasi concitate non è che necessariamente un bottone lo premiamo così possiamo premerlo di lato un po' di sguincio e quant'altro quindi magari premendo nel punto sbagliato potremmo non triggerare lo switch però appunto se giochiamo tranquilli mano fissa su su determinati tasti non dovrebbe esserci problema oppure nel caso di picchiaduro per la configurazione di prima abbiamo questa però appunto noi western siamo abituati più che altro a fare ta 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 come tasti piuttosto che questa configurazione che poi se non sbaglio introdusse mortal kombat da noi il fatto dei quattro tasti comunque lo stick vabbè niente da dire è normale anche perché lo stick diciamo fa non troppa differenza da questo punto di vista perché comunque si ha sempre gli switch che cliccano di questo tipo perché serve anche per sentire quando si attivano a maggior motivo nei picchiaduro dove devi avere la certezza che ti è entrato un movimento i tasti comunque possono essere eventualmente cambiati ed anzi la confezione dà pure qualche tasto di ricambio qualora dovesse partire diciamo così provai ad aprirlo all'epoca è molto semplice a dire il vero basta togliere le viti sotto i gommini ed anche queste altre due viti possiamo accedere al pannello al pannello interno ed eventualmente si cambiano eventualmente si cambiano i tasti semplicemente ci sono due attacchi non hanno polarità perché un bottone un bottone di questo tipo semplicemente chiude ed apre il circuito quindi basterà rimuovere i due i due attacchi mettere un altro controllo un altro tipo di tasto magari anche un Sanua e abbiamo risolto anche perché questi tasti da dentro sono abitati hanno un dado in plastica che va semplicemente svitato entrambi vanno sulla board e poi sul Pandora Box che è qui al centro più o meno di queste dimensioni e niente appunto ho detto che possiamo pure moddare un minimo mettendo altre rom e quant'altro ma appunto tutorial sul Pandora Box in particolare il 9 ce ne sono tantissimi quindi adesso non starò a dirvi le possibilità che ci sono diciamo che è la svolta per diciamo il party dove vuoi nerdare un pochino anche perché qui c'è tutto quanto cioè non devi portarti console controller a parte c'è tutto quanto in un'unica soluzione ed è molto divertente e l'HDMI è anche versatile l'HDMI è versatile tra l'altro è utilizzabile anche il VGA non ha soltanto l'HDMI e sarebbe da provare per vedere se se si connette l'HDMI e VGA solo trasmette in due schermi secondo me sì perché comunque allora considerando che è utilizzato pure per gli arcade che sono ignoranti cioè trasmette tutte le porte che ho boom trasmetto funziona così e quindi secondo me questo non non sarà da meno comunque detto questo penso di avervi detto praticamente tutto se siete interessati trovate il prodotto qui sotto in descrizione è un po' altino il prezzo se devo essere sincero perché poco meno di 300 euro per tutto questo sì ci sta però rimane comunque altino io l'avrei fatto rimanere sui 200 o poco meno se devo essere sincero però comunque un bel giocattolone bello pesante cioè è solido ti dà certezza cioè di certo non se ne viaggia anche perché appunto ci sono i gommini sotto che lo tengono bello saldo poi unitamente al peso è una bomba comunque questa è la skin di The King of Fighter che vedete sullo Sky ma sono disponibili altri wrapping diciamo così che poi questo qua è direttamente stampato sul materiale non è incollato ho visto che c'è in giro quello di Street Fighter o appunto quelli più plain senza senza brand comunque questo per oggi penso sia tutto spero che questo video vi sia piaciuto l'abbiate trovato interessante finalmente me lo sono tolto davanti perché era un bel pezzo che non che da un bel pezzo l'avrei dovuto fare grazie per aver seguito il video e alla prossima ciao e ciao ciao ciao